Liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Mario Medeo Mormile, che è sindaco di Soveria Simeri, proprio oggi qui a presentare, insomma a presenziare il libro di Don Giuseppe Biamonte La Fontana del Villaggio. L'importanza di questi eventi proprio in comuni come questo, che hanno una valenza storica, non solo archeologica, perché ci troviamo in un posto davvero unico, ma sono eventi che uniscono la comunità. Sì, assolutamente. Siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza, il nostro affetto e anche, come dire, ringraziare Don Giuseppe per un grande lavoro che lui ha compiuto nello studio, nell'analisi, nel riscoprire fatti storici, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia, che sono fatti importanti. Molto spesso legati a tradizioni orali, ma anche una grande ricerca su testi, su... in tutte e in quelle situazioni in cui si è riuscito a recuperare del materiale importante e riuscire a ridare anche, oltre che un'anima, anche una consistenza storica, storiografica, questi aspetti, è fondamentale, fondamentale in quella logica di rinascita, di ricostruzione dei nostri centri storici. Di riuscire a ridare quel valore morale, etico, ma anche di consistenza che serve assolutamente ad accompagnare anche le amministrazioni che mi onoro di guidare in questo processo di riscoperta, di crescita e di guardare al futuro, soprattutto. Grazie. Grazie.